In prossimità dell'uscita di Elite 4, Netflix ha deciso di rivelarci l'identità dei nuovi personaggi che saranno presenti all'interno della quinta stagione, perché sì, è stata confermata. Di chi si tratta? Cosa possiamo aspettarci da loro? Scopriamolo in questo video. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. È sempre azzardato parlare di una serie tv, di una stagione, ancora prima che sia uscita, di formulare teorie, di fare quindi ipotesi. Quindi figuratevi fare questo lavoro per una stagione dalla quale non è ancora uscita neanche la precedente. Questo è proprio il caso di Elite, la serie tv spagnola di grandissimo successo di casa Netflix che, quando ancora non abbiamo la data ufficiale di Elite 4, ci ha già dato notizie incredibili sulla quinta stagione. E proprio ieri è arrivato l'annuncio che Elite 4 uscirà il venerdì 18 giugno 2021. Quindi gli episodi di Elite 4 saranno disponibili tra circa due mesi e potremo sicuramente goderceli. Abbiamo anche diversi spoiler, ma che vedremo prossimamente in un altro video. E sempre il 5 marzo Netflix ci ha anche rivelato il nome di due nuovi attori. Stiamo parlando di Valentina Zenere e Andrè Lamoglia. Per alcuni sono dei perfetti sconosciuti, altri invece li hanno già sentiti nominare, ma sia che appunto li conoscevate già o che non abbiate la minima idea di chi essi siano, andiamo a scoprire chi sono questi due attori e soprattutto qual è il loro curriculum nel mondo dello spettacolo, del cinema, delle serie tv, e soprattutto quale potrebbe essere il loro ruolo all'interno di questo mondo, all'interno di Elite. Partiamo da Valentina Zenere, lei è un'attrice argentina, nata a Buenos Aires di 24 anni, resa nota nella telenovela di Disney Channel Soi Luna, per aver interpretato il ruolo di Amber Smith. Oltre a questo ruolo che l'ha resa celebre, che l'ha resa l'attrice che appunto lei è, è apparsa anche in serie sicuramente minori, quale ad esempio Teen Angels, Los Unicos, Aliados, Quacas, i ragazzi del surf, e ricordatevi sto nome perché rispunterà, e le ragazze del centralino. Da lei mi aspetto davvero tanto, perché guardatela, ma quanto è in effetti una ragazza perfetta per la Zensinas. Uno sguardo tagliente, un volto, un'espressione sicuramente molto snob, perfetta per ricoprire quel ruolo che a quanto pare Dana Paula lascerà scoperto. Ed essendo Dana Paula il personaggio di Lou, un personaggio comunque che era estremamente caratteristico, nel caso in cui lei dovrà essere la sostituta, ripeto, mi aspetto davvero tanto. Anche a voi piace? Che sensazioni avete? Scrivetemelo nei commenti. Passiamo ora all'altro nuovo attore, André Lamoglia. André è un attore brasiliano, anche lui classe 1997, reso noto nei panni di Raphael Smore nella serie Disney Quacas, che abbiamo citato anche poco fa, dove troviamo, come detto, anche Valentina Zenere. Anche nel suo caso troviamo comparse ruoli in serie TV sicuramente minori, e tra l'altro brasiliane, quindi abbastanza sconosciute per il mercato europeo e italiano, quali ad esempio Segretos de Giustica, Un Contratodos, Detetives do Presido Azul e Rock Story. Dalle foto pubblicate sui suoi social, pare sicuramente un ragazzo che piacerà alle ragazzine, che probabilmente potrà essere anche al centro di scenari d'amore tra i giovani, eccetera, eccetera, chi ci prova con lui, con lei, scatenando anche delle love story, probabilmente, che finora non hanno avuto un grandissimo ruolo centrale all'interno di Elite. Si parla di una scuola dove c'è gente importante, ma in trecce amorosi, per fortuna, per fortuna, non mi dispiace così, non ci sono stati, cioè non è stato così eclatante, si parlava più che altro di omicidi, quindi un altro livello. Un ragazzo, come detto, che potrebbe far scatenare delle love story qua e là per la Zensinas, ma che, a vederlo con la divisa, sembra proprio un bravo ragazzo. Quindi due nuovi attori in Elite 5, ma come, ma... Elite 5, ci sono due stagioni di mezzo e solamente due nuovi attori? No, no, ricordiamoci infatti che da Elite 4 ci sono altri 4 nuovi personaggi, 4 nuovi attori, ovvero Manu Rios, Martina Cariddi, Paul Grange e Carl Diaz. Di loro abbiamo parlato nel dettaglio però in un altro video uscito un po' di mesi fa, che vi lascio qui nelle schede dove analizziamo quelli che saranno appunto i nuovi personaggi, quello che sarà il nuovo cast di Elite 4. Quindi, oltre che vedere i nuovi personaggi di Elite 4, vi mostro anche quelli che sono gli attori, i personaggi che sono stati riconfermati con assoluta certezza. Vi informo inoltre che il 25 febbraio, chiaramente del 2021, Netflix ha reso ufficiale, con questo mini video, che le riprese e le produzioni della quinta stagione sono già iniziate e le stanno svolgendo. Non mancherà quindi molto ad avere notizie ufficiali su quella che sarà appunto la data di uscita, il nuovo cast, i nuovi personaggi, i nuovi attori, eccetera eccetera, sia della quarta ma, secondo me, anche della quinta stagione. Noi restiamo in attesa di queste appunto notizie. Nel mentor vi lascio a questo video, che è un quiz su Elite. Quanto conoscete questa serie TV? Siete dei veri amanti di Elite? Scopritelo in questo quiz e soprattutto divertitevi. Noi ci vediamo al prossimo video e se non vuoi perdertelo, iscriviti al canale. Ciao a tutti!